Nel Consiglio Comunale di Agropoli del 26 novembre scorso, una delle tre interpellanze del consigliere Mario Pesca ha riguardato la gestione del Cineteatro, Edoardo De Filippo, che come è noto è passato in autogestione al Comune dopo la scadenza del contratto col vecchio gestore. C'è questa avvertenza fortissima con la vecchia gestione del Cineteatro stesso. Nel frattempo ho visto che è stato pubblicato una rassegna teatrale, quindi quello che volevo capire è che potrebbe succedere nel caso in cui colui che ha fatto il ricorso contro il Comune di Agropoli per il Cineteatro, che può succedere con questa rassegna rispetto a quella che può essere una decisiva da parte del TAR o da parte dell'organo che è stato investito, rispetto al Comune stesso. Un'altra cosa che mi voleva dire è questa. Io ricordo che in questo Consiglio Comunale, penso 7-8 mesi fa, la delibera non si è riuscita a trovarla, si era stabilito che per quanto riguardava la gestione del Cineteatro sarebbe stata forse fatta dall'aggiunta comunale, quindi determinata l'aggiunta comunale, ma su questo punto vedo che non vi sono dei libere e poi la gestione stessa sarebbe stata portata all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale stesso. Io questi passaggi non li ho avuti, non li ho verificati e quindi chiedo i volumi su questo. Mi riservo una controlebica. Grazie. Il Sindaco Adamo Coppola ha risposto che in attesa della costituzione di una fondazione che dovrebbe dirigere la struttura, la gestione attuale è in capo all'Ufficio Cultura del Comune. In attesa di un affinamento a una fondazione come strumento per la gestione di Cineteatro, ma anche di altre strutture comunali, quali Castello e quant'altro, per dare una gestione più stabile e di buona programmazione, il Comune avrebbe gestito direttamente il Cineteatro come si dice in economia, cioè la gestione in capo direttamente all'Ufficio Cultura e Turismo che sta provvedendo quindi a farlo funzionare. L'Ufficio Manutenzione ha provveduto a tutto quanto era dovuto rispetto sia alla manutenzione dello stesso, sia alla sistemazione di tutti gli impianti, sia a quel che riguarda la questione della struttura, insomma tutto quel che riguarda l'aspetto, come dire, strettamente organizzativo, questo invece era in capo all'Ufficio Cultura e Turismo che ha quindi avviato la società teatrale, avvierà il cinema e quindi in attesa, ripeto, che questo così si esprima sulla fondazione e abbiamo avviato anche l'apparazione degli atti per questo, ci sarà la gestione diretta da parte lente. Rispetto a quello che può succedere con una causa, voi sapete che noi riteniamo di avere ragione, d'altra parte noi siamo una parte, quindi è chiaro che il giudice poi dovrà decidere e stabilire se abbiamo ragione o abbiamo torto. E' chiaro che al momento, atteso che non c'è stata la richiesta di sospensiva da parte di colui che ha impugnato i nostri atti, vediamo quale sarà la tempizia in cui questo si potrà determinare, ma al momento noi riteniamo di poter andare avanti rispetto a questa gestione diretta. Se dovesse dire il giudice, che so io, che richiedente ha ragione, che deve fare un altro anno di gestione, a quel punto questo dovrebbe essere realmente un provvedimento che riteniamo giusto, che poi noi una volta a volta potremmo impugnare al Consiglio di Stato, insomma c'è tutta una questione di condizioni aperte che porterà via tempo. Se dovesse succedere qualcosa di questo, noi ci atterremo a quello che sarà l'indicazione del giudice amministrativo.